Io non posso che condividere le parole di Giorgio Napolitano e quindi il richiamo al senso di responsabilità e rispetto alle istituzioni. Certo, come esponente del Partito Democratico mi sarei augurata di battere politicamente Berlusconi, cosa che purtroppo non è avvenuta nemmeno alle ultime elezioni, e di giudicarlo per quello che in vent'anni di governo non è riuscito a fare piuttosto che batterlo per via giudiziaria come invece sta succedendo.